Andrea oggi festeggia i Santi Medici presso la parrocchia di San Nicola di Mira, il programma illustrato dal parroco Don Claudio Stillavato nell'intervista di Alessandra Tursilli. La Chiesa, 26 settembre, ricorda la festa liturgica dei Santi Cosma e Damiano, comunemente conosciuti come i Santi Medici, una tradizione orientale di questi due uomini che hanno fatto tanto per aiutare i poveri, soprattutto nelle loro necessità, proprio a livello di salute. E quindi la Chiesa li ricorda in questa maniera e a loro ci affidiamo quando dobbiamo appunto pregare per i nostri tanti ammalati. E l'intercessione dei Santi Cosma e Damiano davvero è un'intercessione forte e potente presso Dio. E gli appuntamenti. Allora abbiamo questa sera alle ore 18.30 una santa messa e poi a seguire la processione proprio per le strade del nostro centro storico. Invece domani ricordiamo la messa alle ore 8, però in serata alle ore 19.30 abbiamo una messa in cui cerchiamo di pregare per tutti i nostri ammalati appunto attraverso l'intercessione dei Santi Cosma e Damiano. E poi abbiamo anche un breve momento di preghiera, di adorazione eucaristica, sempre per i nostri ammalati. Uno sguardo per queste persone deve essere sempre presente in noi. E quando si prega per gli ammalati, ecco il Signore sicuramente ascolta la nostra preghiera. E poi si conclude il 28 settembre con una celebrazione dedicata ai più piccoli. Certo, come scelta, come parroco, ho pensato ecco di unire la festa dei Santi Medici con il sacramento della prima confessione. Ecco, se vogliamo pensare anche all'attenzione della guarigione dell'anima, oltre a quella della guarigione del corpo. Allora dare ai ragazzi questo segno che abbiamo bisogno anche della guarigione dell'anima sicuramente è importante.